Quando ti iscrivi, avrai accesso a, notizie in tempo reale, ricevi le ultime informazioni su infortuni, formazioni, voci di trasferimento e altro ancora, tutto in prima persona. Non aspettare oltre. Iscriviti subito al canale di notizie dell'As Roma. Un altro giovane lascia Trigoria dopo Missori e Volpato che sono andati al Sassuolo. Altra accessione in casa Roma, il giovane portiere Gabriele Baldi si trasferisce a titolo definitivo al Giuliano. Il club lo ha ufficializzato sui social augurando il meglio per il futuro al classe 2004. Mourinho lo aveva convocato a Bologna in una delle ultime gare della stagione, ma non ha mai esordito in prima squadra. Un altro giovane lascia Trigoria dopo Missori e Volpato che sono andati al Sassuolo. Pinto adesso dovrà pensare quasi esclusivamente al mercato in entrata con la ricerca del centro avanti. Non perdere tempo. Lascia subito il tuo mi piace e unisciti a noi sul canale di notizie dell'As Roma. Allora, tifosi romanisti, cosa ne pensate dell'ultimo passaggio di Gabriele Baldi al Giuliano? Un altro giovane talento lascia Trigoria, si unisce a Missori e Volpato, che va al Sassuolo. Come vedi queste partenze e come pensi che la squadra dovrebbe concentrarsi ora sul mercato degli acquisti, soprattutto nella ricerca di un nuovo centro avanti? Condividi i tuoi pensieri e le tue aspettative per il futuro della Roma nei commenti qui sotto.